Buon pomeriggio dello stadio Partenio Lombardi in attesa di di avere disponibile lo stadio De Cristoforo in ristrutturazione di per quanto concerne il diciannovesimo turno di serie C Girone C Giuliano Campagna Corrotone e la voce di Antonio Milano per questo match valido per questo diciannovesimo turno ed ultimo del girone di andata si è consumato un minuto di raccoglimento per il ricordo di Sinisa Mihailovic ex tecnico della Bologna prematuramente scomparso un paio di giorni fa dunque tutto la partita iniziata ci risentiamo per per gli aggiornamenti linea allo studio Grazie a tutti i nostri spiegati a